Grazie, grazie a tutti, grazie ai PASIM e a AIL per questo invito così gradito. Il mio compito è appunto quello di parlare del rapporto medico-paziente. E dico subito quello che di fatto costituisce il nucleo del mio messaggio. Non lo dico io, lo dico una persona che è vissuta 2500 anni fa, ipocrate, e cioè che sapere che tipo di persona ha quella malattia conta di più che sapere che tipo di malattia ha quella persona. Questo è fondamentale, non esiste il paziente con sindrome mielodisplastica, esiste quel paziente con sindrome mielodisplastica e quell'universo, quel particolare paziente con le sue caratteristiche e le sue aspettative. Finora, erroneamente, devo dire, si è impostato un modello di rapporto medico-paziente basato esclusivamente sull'importanza della patologia del medico. Quindi solo la patologia conta, le alterazioni che possiamo misurare, l'emoglobina, il valore delle piastrine, il valore dei globuli bianchi, e solo il medico è l'esperto della patologia, l'unico che può fare una diagnosi, può dare una terapia, può interpretare dei sintomi. Ora però il problema di questa relazione, che è asimmetrica, e questo è giusto, perché per una questione di conoscenze la relazione medico-paziente è asimmetrica, però in questo tipo di relazione il medico utilizza le sue competenze per scegliere quello che deve fare e in fondo la scelta del paziente, le preferenze del paziente vengono relegate in secondo piano. E quindi il medico ha un elevato controllo sul rapporto medico-paziente e nel colloquio medico-paziente, ha un flusso di informazioni unidirezionale. Cosa vuol dire? Che sono io che ti dico come stanno le cose, sono io che faccio la diagnosi, ti dico che cosa hai, ti dico cosa devi fare. Non ho un feedback dal paziente, quindi non mi interessa capire che cosa il paziente ha capito. E chiaramente mi esprimo con un tipo di linguaggio estremamente tecnico. Dire a un paziente tu hai una sindrome mielodisplastica con sideroblastia ad anello è un linguaggio estremamente tecnico, per cui il paziente dice sì dottore, ma quindi? E quindi in questa situazione spesso e volentieri il paziente non capisce più di un certo tanto. E vorrei a questo proposito anche farvi vedere un piccolo breve video di tre minuti tratto da un film del noto regista, visto che siamo a Roma, Nanni Moretti, che appunto ha la disavventura di avere una problematica medica. Lui aveva un prurito da diverso tempo, per cui inizia a girare da medico a medico. I medici non lo ascoltano e alla fine si scopre che lui ha un linfoma. E gira questo piccolo spezzone. Sono arrivati i vaccini. Solo per scrupolo voglio chiedere un parere a un mio amico immunologo. Ciao Guido, sono Nanni. Bene, abbastanza bene. Senti, ora non ti sto a spiegare tutto quello. Insomma, io un mese e mezzo fa ho fatto delle prove allergometriche. Sono risultato allergico a molti cibi. Ho ordinato un vaccino, che oggi è arrivato. Io naturalmente lo... Come lo shock anafilattico. Mi dice che quel tipo di vaccini sono inutili e c'è anche il rischio di uno shock anafilattico. Il mio prurito non c'entra con l'allergia alimentare. Quella fa venire orticaria, cioè bolle in tutto il corpo. Sì. E non un semplice prurito. Respiri. Mentre io faccio l'attac alla testa, il radiologo della clinica ha davanti a sé già l'attac al torace e ne parla con Silvia e Angelo. Dice che io, secondo lui, ho un sarcoma al polmone. Gli domandano cos'è e lui risponde un cancro al polmone e dice che secondo lui la mia situazione è incompatibile con qualsiasi tipo di cura. Per fortuna il radiologo non ci ha indovinato. Mi operano due giorni dopo quest'attac e il mio amico medico, a cui chiedo di assistere all'operazione, poi mi dirà che il chirurgo, durante l'intervento, guardando in un vetrino un pezzetto che mi avevano appena asportato, aveva detto, mi gioco una palla che questo è un linfoma Hodgkin. Due no, ma una sì. Il linfoma Hodgkin è un tumore al sistema linfatico, un tumore curabile. Poi un giorno a casa sfoglio un manuale che si chiama Enciclopedia Medica Garzanti e alla voce linfomi c'è scritto i sintomi sono prurito, dimagramento, sudorazione. Una cosa però l'ho imparata da tutta questa vicenda. I medici sanno parlare, però non sanno ascoltare e ora sono circondato da tutte le medicine inutili che ho preso nel corso di un anno. I medici sanno parlare, ma non sanno ascoltare. Questo è un qualcosa che il grande regista coglie e che spesso si coglie nel rapporto medico-paziente. E i pazienti sono insoddisfatti perché sembra che il medico non li ascolti. Sapete quanto tempo intercorre prima che un paziente venga interrotto dal medico in un dialogo di media? Solo 18 secondi. Quindi il paziente è insoddisfatto da questo punto di vista. Appunto si parla estremamente un linguaggio specialistico. Spesso e volentieri noi medici abbiamo un'attitudine di parlare dall'alto verso il basso e abbiamo paura di una second opinion. Cioè abbiamo paura del fatto che il paziente ci dica ma dottore, le secca se io vado fuori a verificare se veramente le cose stanno così, a chiedere un altro parere? E in più l'altro problema è che noi pensiamo di comunicare tutto con le parole. In realtà in una relazione asimmetrica di comunicazione è pochissima la quantità di informazioni che comunichiamo con le parole. La maggior parte delle cose si comunicano in maniera non verbale o in maniera paraverbale, cioè con il tono di voce, con i silenzi, con le preoccupazioni, con le enfasi, con il mio modo di essere. Comunichiamo appunto al paziente e il paziente comunica al medico. Comunicare è un legare insieme il medico con il paziente. E' per questo che è molto importante invece passare a una medicina che sia centrata sul paziente. Cosa vuol dire? Che senz'altro dobbiamo trattare la patologia, ovviamente siamo medici, ma dobbiamo anche comprendere quella che è l'agenda del paziente. Che cosa intendiamo? Che cosa si intende per l'agenda del paziente? Il paziente si intende quel vissuto che il paziente porta con sé dato dall'impatto che la malattia ha nei suoi confronti. E di che cosa è fatta questa agenda? È fatta di emozioni, chiaramente la diagnosi di una sindrome melodisplastica, di una malattia del sangue, genera delle emozioni che sono molto importanti. È fatta di idee, il paziente viene dal medico e ha delle idee, si fa un'idea su quello che ha oppure non se la fa per niente. Quindi è molto importante esplorare che cose il paziente si aspetta. Appunto, il paziente ha delle aspettative nei confronti del medico che vanno discusse in un corretto rapporto medico-paziente e poi occorre esplorare il contesto. Anche questo è molto importante. Se vogliamo che le nostre terapie siano efficaci, bisogna capire se quel paziente è solo oppure c'ha una famiglia che lo supporta, degli amici che lo aiutano. Perché altrimenti è inutile che noi programmiamo un percorso terapeutico se poi quel percorso non può essere svolto e il paziente non lo svolgerà mai. Le emozioni. Ho preso questo testo di un paziente che è stato trapiantato tanti anni fa di Midollo, un giornalista del Sole 24 Ore, in cui dice «Una forma di leucemia», le dice la dottoressa, continua la dottoressa, «sempre impassibile, come se stesse elencando i dati anagrafici allo sportello delle tasse. Invece mi sta parlando di un terribile tumore, leucemia. La parola mi si conficca nel costato come una lama tagliente, come gli artigli di una pantera». Vedete quante metafore. «Mi sembra che per un attimo la circolazione del sangue si blocchi e il cuore si fermi. Mi sento prima a raggelare, poi a vampari di caldo. Ho nelle orecchie uno strano fruscio. Di fronte a me scorrono parole come interferone, autotrapianto, trapianto di Midollo. Chiedo incerto qualche spiegazione. La dottoressa è gelida nel suo camice bianco, con la faccia sempre uguale. Mi sembra addirittura che sfugga il mio sguardo. Non una parola di conforto, non un sorriso, non una indicazione di speranza. solo l'elenco sommario di possibili cure. Vedete l'impatto che una parola come leucemia ha nelle emotività del paziente e nello stesso tempo la scarsa empatia che in questo caso la dottoressa nei confronti del paziente. Quindi è importante confrontarsi con il vissuto di malattia del paziente. e questo consente di prendersi cura e di essere maggiormente efficaci nelle nostre terapie. È un metodo che ci fa perdere tempo. In sintesi dico di no. Questo è un metodo che anzi aiuta a salvare il tempo, a guadagnare tempo, questo modello centrato sul paziente, su quello che il paziente è. Con Fabio Efficace, che è stato citato prima, abbiamo pubblicato un lavoro sulle sindrome mielodisplastiche in cui abbiamo suddiviso in tre gruppi i pazienti. Pazienti che hanno un'attitudine passiva, cioè che preferiscono che sia il medico a decidere il da farsi completamente. Un paziente collaborativo, vale a dire che prende le decisioni insieme al medico, è un paziente con un'attitudine attiva, cioè è lui che vuole prendere la decisione finale. Abbiamo visto in un campione di oltre 500 pazienti con mielodisplasia che, ahimè, prevalgono i pazienti passivi, oltre il 47%, ed è su questi che bisogna lavorare, a mio giudizio, per cercare di spostare questi pazienti in un setting collaborativo, cioè la collaborazione tra medico e paziente è la cosa più importante. Il paziente spesso non chiede informazioni prognostiche, in questo lavoro solo il 60% dei pazienti chiede una prognosi, mentre il 40% non la richiede. E, cosa molto importante, se noi chiediamo ai medici che seguono i pazienti con mielodisplasia, se ritengono importante coinvolgere il paziente nelle decisioni terapeutiche, purtroppo c'è un 20% ancora di medici che ritiene non importante coinvolgere il paziente. è un 29% che ritiene abbastanza importante coinvolgere il paziente. E questo dipende dal fatto che valutano molto bassa la qualità della vita del paziente o che si trovano davanti un paziente che non chiede informazioni sulla propria prognosi. Questa è una tabella un po' difficile, ma non mi dilungo. Devo solamente dire che in questo studio abbiamo visto che la concordanza, ne parlerà Esteruliva sicuramente successivamente, la concordanza sulla qualità della vita tra ciò che il paziente ha, dice di avere, e quello che invece il medico ritiene che quel paziente abbia, è molto bassa, è inferiore al 30%. Normalmente noi pensiamo che il paziente stia molto meglio di come invece realmente lui sente di stare. E questo può portare a dei bias, per esempio nell'arruolamento dei protocolli. In questo articolo recentemente pubblicato abbiamo cercato di portare avanti dei comportamenti che a nostro giudizio sono importanti per comunicare efficacemente con le persone e con i pazienti. A nostro giudizio tutto questo va anche insegnato nella Facoltà di Medicina. Noi abbiamo un corso in Facoltà di Medicina di Cagliari di comunicazione medico-paziente, dove appunto cerchiamo in qualche modo di insegnare questi aspetti al medico che riteniamo essere estremamente molto importanti. Naturalmente questa è una virtù dei piccoli passi. Non possiamo pensare che si cambi rapidamente e di colpo, ma certe abilità comunicative possono favorire il rapporto col paziente. A noi spesso capita un paziente per esempio positivo. Faccio un esempio di Carlo. Non se ne parla neppure. Non pensa che io posso venire in ospedale una settimana al mese con il lavoro che mi porta in capo al mondo. Ho 100 dipendenti, tra l'altro buttato qui dalle 8 del mattino fino all'arrivo dell'achemio e poi il fine settimana è l'unico momento di relax con la mia famiglia. Se vuole possiamo controllare insieme i miei impegni e decidere di conseguenza. Il medico è tentato di dire io devo dire cosa è meglio per lei e per la sua salute e poi lei faccia un po' come le pare. Questo è sbagliato. Questa è una posizione appunto di quel rapporto medico-paziente spostato sul medico estremamente erroneo a mio giudizio. Invece dice ha ragione, forse non ce la faremo a fare un farmaco demetilante, ma le sto chiedendo davvero troppo. Non posso certo pretendere che di colpo metta da parte impegni così importanti. Ma come dottore? Mi aveva detto che ne avevo bisogno. Devo fare qualcosa contro la malattia. Sì, capisco, ma vedo che è molto impegnato, ma so anche che un grande organizzatore al lavoro potrebbe scegliere lei tra fare la puntura una sola volta al mese da lunedì al venerdì e poi lunedì e il martedì oppure riprendere il ciclo successivamente il lunedì e il martedì. Ci penserò in linea di massima, scelgo la seconda opzione. D'altra parte sono un ottimo organizzatore. In questo modo il medico ha ottenuto una collaborazione attraverso delle tecniche di comunicazione sulle quali non mi attardo che sicuramente possono aiutare in questo senso. Anche nei pazienti non collaborativi o passivi attraverso la possibilità di chiedere che cosa preoccupa maggiormente il paziente ed entrare nella sua preoccupazione e fare capire come una terapia possa realmente agire per esempio pulendo in questo caso il DNA spiegando con una metafora che cosa il farmaco determina può aiutare nella comunicazione col paziente e quindi ottenere una collaborazione. Termino con questa frase tratta da un libro molto bello che consiglio a tutti di leggere è scritto da un medico neurochirurgo che a un certo punto si ritrova dalla parte del paziente perché scopre di avere un tumore al cervello e lui dice non lo sapevo eppure avevo imparato qualcosa qualcosa che non si trova in Ippocrate Mosè, Maimmoinide e Osler il compito del medico non è respingere la morte o riconsegnare i pazienti alla loro vecchia vita ma prendere tra le braccia i pazienti e i loro familiari le cui vite si sono disintegrate e lavorare finché non saranno in grado di risollevarsi e affrontare la loro esistenza trovandole un senso. Grazie per questa essersi messo dalla parte dei pazienti che permia tutte le sue parole io porto a casa uno l'ascolto l'ascolto che deve essere dovuto nei confronti dei pazienti e che è stato sottolineato anche nel brano che ha riportato del film di Ranni Moretti l'ascolto che permette una diagnosi precoce quando c'è da fare una diagnosi l'ascolto che permette una maggiore aderenza terapeutica un miglior risultato rispetto a quelle che sono le cure al momento in cui la diagnosi è fatta e le terapie sono somministrate l'ascolto che deve portare a capire bene qual è il contesto nel quale il paziente vive per scegliere l'alternativa terapeutica migliore per quello specifico paziente quando ce ne sono di diversa somministrazione fra una domiciliare fra un'ospedaliera e quant'altro e il linguaggio che deve essere adattato al contesto perché altrimenti si rischia di creare distanza anche laddove distanza non c'è